Settima giornata di andata in Serie D e dopo i due turni esterni di fila, la Cirale va diritta a un turno interno che è tale però solo a metà. L'indisponibilità del Green del Tupparello giocoforza ci porta fuori, anche se di pochi chilometri. Ad ospitare la Cirale Agropoli inizio ore 15, diretto dal signor Ijunes di Torino, sarà il polivalente di AC San Filippo. Non ci sarà l'attaccante tedesco perché squalificato, ma con il tecnico Marra, oltre ad analizzare l'aspetto mentale, una settimana post-vittoria e sempre vissuta in altro modo, vedremo come cambierà l'undici rispetto a Noto. Adesso ci tocca comunque un altro esame da superare, che è quello di sapere gestire la vittoria, in modo che noi diamo valore a quello che abbiamo fatto domenica scorsa. Il nostro obiettivo, e oggi ne parlavo anche con i ragazzi, è dare continuità a quello che si è fatto domenica scorsa. La scelta di Macri in mezzo al campo è una soluzione, ma era un'emergenza, noi eravamo accorti di centrocampisti. Adesso Macri ritornerà al suo posto, che è quello di esterno, è la stessa cosa di Manganaro. Erano dettate dalle esigenze in quel momento della partita. Non è detto che comunque ha avuto ottime risposte, che in un futuro potrebbero anche ricoprire quel ruolo. O magari anche domani durante la partita, se vediamo che va in un determinato modo, visto che ha avuto ottime risposte, perché non riproporlo questo schieramento? Lo dissi sabato scorso e lo ripeto anche adesso. Noi in questo momento non possiamo pensare agli avversari, perché la nostra situazione di classifica è quella che ci dice che tutti gli avversari hanno fatto meglio di noi. E quindi ci aspetto una partita tosta. Conosco benissimo l'Agropoli, nei suoi uomini, che sono uomini che puntano un campionato di vertice. Perché non dimentichiamo che sia Mallardo, Carotenuto, Secum, Toscano, Carebui, Parisi, sono gente che è abituata per vincere i campionati. Adesso si trova in una situazione un po' così, hanno passato il momento brutto. E credo che, come a noi, vorranno delle risposte in base al risultato positivo di domenica scorsa. Le altre della settima di andata, Licata, Palazzolo, Messina, Comprensorio, Normanno, Nissa, Ribera, Cosenza, Comprensorio, Montalto, Procavese e Vibonese, Ragusa, Città di Messina, San Biasa, Gelbison e Savoia, Noto.